Quinta edizione per Imbavagliati, il festival del giornalismo civile che racconta storie e fatti poco conosciuti attraverso la voce dei cronisti censurati o minacciati. Dal 20 al 24 settembre al PAN la manifestazione promossa dal Comune di Napoli e ideata da Desiree Klein proporrà incontri, testimonianze e immagini straordinarie dal mondo. Fra le novità una mostra antologica del fotografo Uliano Lucas e una speciale sezione dedicata alla satira contro la censura. Noi ospitiamo giornalisti minacciati da ogni parte del mondo, giornalisti che raccontano la verità dal loro punto di vista interno, che hanno rischiato il carcere, hanno subito le torture ma non per questo rinunciano alla loro voglia di raccontare. Guerre innocenti è il tema di questa edizione che si concentra sulla sofferenza dei bambini costretti a crescere in situazioni di conflitto armato. Sono 34 milioni, secondo Unicef Italia, i minori che convivono con la guerra e avrebbero bisogno urgente di misure di protezione. Proprio l'Unicef ci ha indicato le zone dove i bambini vivono in condizioni disperate, zone dove ci sono guerre, catastrofi e i bambini spesso sono adoperati per essere dei soldati, per fare cose che non appartengono alla loro età. Prologo del festival sarà come sempre l'assegnazione del premio Pimentel Fonseca, assegnato quest'anno alla giornalista e attivista spagnola Elena Maleno e onore scausa alla comandante e attivista tedesca Carola Racchete. Il premio Pimentel Fonseca è il 18 settembre alle 18 nella sala di Stefano del Panno e quest'anno abbiamo deciso di premiare due donne che si sono battute per i diritti umani. Si discuterà ancora di resistenza civile con un convegno dedicato alla memoria del magistrato Francesco Saverio Borrelli e di libertà di stampa ed opinione. Abbiamo sentito in questi giorni fare molti riferimenti a un nuovo umanesimo. Io mi permetto di dire con orgoglio, con modestia ma con orgoglio, che Napoli in questi anni è stata la capitale del nuovo umanesimo. Noi non abbiamo alzato questa bandiera e non l'abbiamo più ammainata, anche quando i venti soffiavano potenti in direzione contraria. Abbiamo difeso alcuni principi e valori che sono costitutivi dell'anima della nostra città. Tutte le iniziative del Festival imbavagliati sono a ingresso gratuito.